E' scomparso Ferdinando, un uomo di 55 anni, di roio poggio. Non si sa più niente di lui da sabato scorso. Ferdinando è stato sentito telefonicamente per l'ultima volta dal fratello alle 13 di sabato 21 aprile. Aveva detto che non sarebbe tornato per pranzo, poi il silenzio. L'ultimo avvistamento al termine al bus di Collemaggio, poi si sono perse le sue tracce. Ferdinando, al momento della scomparsa, era vestito con un pantalone chiaro con zippa e lati ed una maglietta blu sbracciata. Per chiunque sapesse qualcosa può rivolgersi